In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, puoi aggiornare i nostri telespettatori sulle condizioni attuali del tempo. Sul Mediterraneo centro-orientale va espandendosi un campo di alta pressione di natura africana a causa dell'affondo in direzione della penisola iberica di una vasta circolazione depressionaria. Su tutta la nostra penisola insisteranno così per più giorni correnti meridionali che sul nord Italia assumeranno una curvatura ciclonica e dunque causeranno condizioni di maltempo mentre tutto il sud e parte delle regioni centrali saranno investite da venti di scirocco accompagnati da scarsa umidità. Un'Italia dunque tagliata in due con tempo a connotazione quasi estiva al sud e da pieno autunno al nord dove sono attese abbondanti precipitazioni. Come si svilupperà invece il tempo nel prossimo fine settimana e quindi per le giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre? Per sabato 19 ottobre avremo cielo sereno poco nuvoloso ovunque con passaggi di nubi alte e sottile innocue, temperature in lieve aumento con massime intorno ai 25 gradi centigradi quasi ovunque, venti deboli meridionali e mare poco mosso. Domenica 21 ottobre condizioni quasi identiche con cielo quasi sereno ovunque per l'intera giornata, temperature senza variazioni di rilievo e ventilazione debole da scirocco, mare poco mosso. E per la tendenza della prossima settimana cosa puoi dirci? Tra lunedì e martedì l'espansione dell'alta pressione raggiungerà il culmine interessando quasi l'intero territorio nazionale. La depressione si isolerà sul Portogallo con una scarsa evoluzione a progredire verso est. Dunque sulla nostra regione continuerà a persistere il bel tempo almeno fino a mercoledì 23 ottobre e oltretutto con temperature in ulteriore aumento. Non si escludono valori massimi prossimi a 30 gradi centigradi su varie località del Salernitano. Ma per maggiori dettagli come sempre invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti